It's time of team warfare ragazzi sono trick trick bentornati nel canale così siamo qui tornati con un video su cold war però oggi vi porto un bel gameplay visto che dopo l'ultimo video me l'avete chiesto in tanti a me fa veramente tanto piacere infatti vi ringrazio e vi ringrazio tra l'altro anche per i 1500 che veramente non ho parole però e niente oggi appunto siamo qui per portarvi un bel gameplay tranquillo molto chill devo ancora vedere come editarlo nel modo migliore per renderlo il meno palloso possibile per voi comunque niente passiamo subito alla classe che useremo oggi che per chi è sul gruppo telegram sicuramente si ricorderà di quella che ho già postato perché ve l'ho condiviso con voi questa classe qui è veramente assurda non so il motivo perché ha degli stats inferiori rispetto a quelli che vi ho portato nel video sulla classe più strana di cold war che era appunto sulla cappino insomma vi faccio vedere che abbiamo schermatura di fiamma 545 la prima canna niente corpo sotto canna l'ultima caricatore l'ultimo impugnatura l'ultima e calcio l'ultimo il resto non ha senso cerchiamo subito una partita su raid più crossroad e ragazzi se vi può interessare voi lasciatemi qua sotto magari una classe da poter usare nel prossimo gameplay che magari se effettivamente c'è tanta domanda può diventare anche una serie come per esempio che ne so classe dell'iscritto robe del genere ok ragazzi eccoci in partita siamo su crossroads dominio vediamo di fare qualcosa di decente adesso prendiamo subito la flag facciamo una granata lì a caso lì non picco e me ne vado da sta parte certo che anch'io a mettermi a sparare gente che è praticamente dall'altra parte della mappa una cosa che mi irrita veramente riguardo al gioco è proprio il desync perenne che c'è in su su cod in ogni praticamente server quindi va bene con la cassa non si può wallbangare prendiamo questa flag e niente per forno madonna qua vedete di cosa parlo cioè proprio non dovevo ucciderli quelli però effettivamente per il gioco va bene oh no che bel timing che ho che ho sentito eh anche a te che scappi no basta non vado più di là ok lì c'è uno l'ho visto però prima faccio fuori quello perfetto grazie mille che sei morto per me riesco a non morire qua ok lì ci sono i nostri andiamo da sta parte che se non è che mi vada tanto di piccare da lì eh proprio è una roba che mi venga da fare via via cioè seriamente uno sta lì sembrava troppo bello per essere vero ok macchina da guarda che mi tengo per il round dopo perché mi serve fare la combo scusa eh e i miei colpi lo tengo per dopo perché devo fare la combo di cui vi ho già parlato nel video ok dai ci siamo speriamo di non morire e di non fare stupidate perché c'ho la macchina da guerra me la voglio giocare bene allora innanzitutto vado a prendere subito C qua così almeno facciamo quei puntazzi in più perfetto ok stiamo facendo delle morti ridicole vi giuro che c'è una macchina da guerra che ok per fortuna ho ucciso subito pacchetto d'assalto ok ora è il momento giusto per entrare in streak quindi mi savo fosse anche un amico no non ci abbiamo fallito lì nel modo più miserabile però almeno abbiamo preso l'arp quindi adesso sto qua che pusha gli diamo una bella botta dov'è? ok non me lo fregare ok me ne vado perché madonna che fortuna via 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 ok ragazzi riproviamo su raid vediamo sta uccisione confermata perfetto mi sposto da qui il più velocemente possibile perché so che ne arriveranno altri eccoli qua vabbè dai almeno uno l'abbiamo ucciso prendiamoci questa piastrina è una roba mettiamo giù questo vai granatina ok perfetto e c'è il terzo niente ragazzi spero che il video vi sia piaciuto in tal caso fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi interesserebbero altri gameplay e ragazzi vi do appuntamento al prossimo video vi ricordo di lasciare un like un'iscrizione se volete anche attivare la campanella passate in descrizione dal server discord se volete giocare con me oppure dal canale e gruppo telegram se vi interessa non so parlare con altre persone che cercano a cod e niente ragazzini ci becchiamo al prossimo video bella rega grazie a tutti Grazie a tutti.